Il Cefa Basket è centro-computer a metà dell'opera. In un palazzetto dello sport di Castelnuovo-Stracolmo, gli uomini di Michele Rocchiccioli si aggiudicano gara 1 della finale play-off per salire in promozione contro il basket Certaldo, battuto con l'eloquente punteggio di 61 a 45. Una serata perfetta per i gialloneri, che hanno dominato l'incontro sin dall'inizio, senza mai concedere una speranza di rimonta agli ospiti. Il vantaggio è cresciuto con i minuti, più 8 dopo il primo quarto, più 18 all'intervallo lungo e ancora più 27 a fine terzo quarto, prima che un po' di stanchezza e rilassatezza permettessero a Certaldo di recuperare qualche punto. Domenica prossima, 5 giugno, gara 2 in terra fiorentina, con l'obiettivo di chiudere i conti subito. Soddisfazione da parte di coach Michele Rocchiccioli, poiché il Cefa ha disputato davvero un'ottima gara, soprattutto è sceso in campo con l'atteggiamento giusto e i primi 30 minuti sono stati davvero perfetti, come testimoniano i parziali suddetti. Adesso l'aspetto più difficile sarà quello mentale, perché in realtà ancora nulla è deciso e sicuramente in casa loro i fiorentini cercheranno una sollecita reazione e una gara ben diversa. Certaldo è una squadra che ha fatto un percorso simile al Cefa, è arrivata in finale vincendo tutte le gare playoff e quindi i giochi sono ancora aperti. A livello individuale spicca la prova del solito Simone Angelini con 21 punti, ma il tabellino premia anche il lavoro svolto con i giovanissimi, visti i 23 punti della coppia Grandini-Guidi. Dunque Cefa avanti 1-0 nella finale e con la promozione un po' più vicina.